E notizia proprio dell'ultima ora è il fatto che il governo ha deciso di aprire gli stadi al pubblico in tutta Italia fino a mille spettatori da domani, domenica 20 settembre fino al 7 di ottobre. Una decisione arrivata dopo l'incontro del pomeriggio tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e i presidenti di regione, soprattutto dopo le ordinanze di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che già, lo ricordiamo, avevano deliberato per l'apertura degli impianti sportivi al pubblico.